Ciao a tutti amici, sono il Custo e rieccoci con la nostra serie albanese. L'Italia ha dichiarato guerra alla Grecia e quindi ora dobbiamo rafforzare il fronte sud. Ci servono più truppe perché se no non ce la facciamo difenderci. Allora, i greci sono entrati negli alleati. La Bulgaria è già in guerra, no. Buono, 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 buono. Quindi, perfetto, sono molto contento perché visto che la Bulgaria non è in guerra, la Grecia non potrà essere attaccata da qua, almeno per adesso finché non entra in guerra. E quindi dovranno cercare di sbarcare in giro gli italiani e i tedeschi, però per lo più gli italiani. E quindi abbiamo ancora un po' di tempo da dedicarci, da dedicare al nostro esercito. Stiamo finendo anche i forti, i fortini. Buono. Potenziamo anche l'engine. Ok. Qua come stanno? Hanno già fatto il patto con gli italiani. Ok. Sarà complesso se entrano anche i bulgari. Quante fabbriche abbiamo? 8. Tra poco finiamo... Ah no, l'abbiamo già fatto il focus. Adesso abbiamo 8 fabbriche. Ok. Dopo diamo un giro di forti anche qua in basso, così li portiamo magari al 3 o al 4 se si riesce. Ma sì, facciamolo al 4. Non riesce a sbarcare, non capisco perché. Uh, sono arrivati anche i russi! Buono, sono arrivati anche i russi. Hanno capito che devono difenderci. Ottimo. Unexpected, ma ottimo. Sono molto contento di sta cosa. Intanto altre truppe sono arrivate. Ma te ne ho allenate. Ah ok, basta. Abbiamo 12 divisioni. Ok, qua le stiamo portando al 4. Portiamole anche qua al 4. Ok. Le industrie di fanteria. Facciamo questo del hard attack. Ok. E c'è l'industria dell'artiglieria. Soft attack. Allora, tra poco abbiamo abbastanza punti politici, political power. Per... Non punti... Potere politico. Per poter fare extensive conscription. Così possiamo allenare un po' più di truppe. E modificare le truppe che abbiamo così da renderle un po' più belline, un po' più fortine. Improved medium tank. Chassis. Fatto. Ah. Non saprei cosa ricercare. Andiamo avanti con l'artiglieria. Ok. Qua la speed. E cambiamo il template. Allora. Small arms. Sempre heavy machine gun. Light tank. One man turret. Special. Mettiamo sloped armor. Welded armor. E... Vediamo... Quanto ci fa mettere. Ok. 25. Buono. Sì. Sono contento. Ah no. Non ce lo fa fare. Non ce lo fa fare perché ci mancano i punti. Allora facciamo così. Alleniamo non solo quelli che hanno bisogno ma alleniamo tutti. Così ci danno un bel po' di puro e di esperienza. Ok. 31. Quanto godiniamo? 0.38. Mi piacerebbe godinare un po' di più però si fa quel che si può fare. Mandiamo magari... A chi è che possiamo mandare? L'attaché. Andiamolo magari alla Cina l'attaché se ce lo fa... Ah no. Ci sarà in politica al power ma a me non è tempo di buttarlo via. Ok. È già impotenziato. Infantry. No. Facciamo l'antiaerea. Ok. Per il carro aspettiamo ancora un pochettino. Intanto che guadagniamo esperienza militare. Improved medium. Qua lo rifacciamo. One man. Feel peace research. Madonna small arms. Small arms. E poi small arms ci mettono un pezzo di artiglieria sopra. Molto molto coerenti. Ok. Come arma. Dov'era? Improved small cannon. Dov'è? Ah eccolo qua. Non lo trovavo. No. Non era questo. È heavy machine gun. Eccolo qua. Che costa 0,50. Di production cost. Ok. Non la radio ma sloped armor. Welded armor. Intanto facciamo partire il tempo. E dobbiamo aumentare anche l'engine. Se no non ce la fa. Ok l'armatura al massimo. Se togliamo un engine no non ce la fa fare. Ok. Buono. Lo creiamo così. Improved medium tank. Ottimo. Intanto ai nostri space marines possiamo dare il carro armato. Ci manca l'esperienza però lo possiamo già mettere. Basta aspettare un pochino e lo facciamo. Ai nostri marines spaziali. 10. Ah non ci dice neanche quanto ci occupa. 11. 12. A posto. E siamo anche in positivo. Ottimo. Ok. Tanto non è che sto occupando così tanto. Cioè non ho così tante divisioni di space marines. Ne ho due. Ne ho due? Ho tre. Due. Ok. Voi allenatevi soltanto chi ne ha bisogno. Con la produzione come siamo messi? Cioè con la costruzione. Tanto la Bulgaria non è ancora in gioco. Facciamo così. Tu. Difendi Durazzo. Tu. Difendi Vlore. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi due difendete qua. Voi due difendete qua. Ok. E voi che non avete missione andate sul confine. Ok. Perché secondo me tra poco mi attaccano. La Grecia sta reggendo bene. Tanto la Bulgaria non è ancora entrata. Quindi non devono avere paura da quel lato. La Jugoslavia invece deve avere paura. Perché sono messi male. Potenziamo l'artiglieria ancora. Tanto il nostro esercito come è composto. Infetro Equipment. E del 36 ne abbiamo poche. Però abbiamo alcune del 39. Buono. I pezzi di artiglieria. Ok. 36 e 36. Antiaerea 38. Ne abbiamo un pochino. Il Medium Tank. Ok. Stiamo iniziando la produzione anche dei 41. Antiaerea potenziata. No. Per le armi aspettiamo il bonus. E facciamo queste. Desert and Jungle Clothing. Oh, guarda qua. Sono arrivati i russi. Al confine. Mi sa che mi tocca chiamare i russi. Perché non so quanto mi possa difendere io. Contro tutta l'asse. Facciamo intanto il support Equipment. Allora, appena prendono questa provincia, io chiamo i russi. Il confine come sono messi? Eh. Eh. Allora, non ci sono più 10 divisioni tedesche per provincia. Ed è un bene. Intanto i russi hanno un sacco di divisioni anche qua, che potrebbero spostare. Ok, appena prendono una provincia di confine, io invito i russi. Mi manca poco qua. Allora, manca davvero pochissimo. Modernize Small Arms, fatto. Feel Peace Research. Oppure, cosa possiamo fare? Coministice Diplomacy. Allora, intanto che decido, allontaniamoci un pochino. Grazie per il convoglio. Allontaniamoci un pochino che non facciamo un sacco di rumore. Build Hospitals. Questo ci migliora la... Uh, Automobile Industry. Uh, prendiamo questa. Sì, così ci dà un po' di macchine, ci dà l'industria. Allora. Ok, continuiamo. Dovrebbe cedere tra poco questo. Ok. Chiamiamo Zio Russia. Call to Arms. Ok. Germany Breaks Molotov Ribbentrop Pact. Come se fosse colpa della Germania, no? Ok. Volevo togliere sta cosa. E vi state fermi. Uh, hanno iniziato ad avanzare. Hanno iniziato ad avanzare. E loro chi sono? Chi no? Yugoslavia. Military Access. Anzi. Cancelliamo il Military Access. Non ci serve. Non ci serve perché più territorio guadagniamo noi, più viene noi e più non viene dato alla Jugoslavia. Ma i russi dove sono andati tutti? Perché? No, 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 no. Ce ne sono andati i russi, perché? Siamo morti, ragazzi. Siamo morti. Facciamo che voi tre difendete Tirana. Eh no, vattene e difendi di là. Che stronzi quei russi che se ne sono andati. Ah no, alcuni russi sono ritornati però. Intanto hanno assassinato Lev Trotsky. Eh no, mi sa che ci conviene offrire il nostro Military Access. Ma forse neanche. Perché non riescono a difendere la Grecia, secondo voi riescono a difendere noi. Non penso. Non penso proprio. Però intanto stiamo ancora reggendo. Inlegi da noi convogli. Free Civilian Factories. Facciamo così. Zacchete e Zacchete. Bunkeriamo Tirana. Conscription Law. Extensive Conscription. Ci hanno distrutto le fabbriche? No, non ancora. Ottimo. Andiamo a difendere Tirana. Perché qua stiamo per andarcene. Ok, Tirana e Durazzo sono protetti. Non so ancora per quanto. E anche Vlore sta un po' arrancando. Non ha nessun forte terrestre, ha solo forti marittimi. E mi sa che è un Malus come cosa. Però stiamo reggendo. Stiamo reggendo. Ed è una cosa positiva. Ok, appena finisco questo, faccio questo. A Durazzo. Perché anche questo mi deve resistere. Purchase foreign licenses. Il Peace Research. Oppure Modern Logistics. No, facciamo Mechanization e poi Modern Logistics. Allora, togliamo tutte le altre truppe. Almeno per adesso, così non ci lagga il gioco. Ok, anche Jungle fatto. Facciamo le armi del 42. Ok. Ok, stiamo ancora resistendo. Per poco, però stiamo resistendo. Abbiamo qualche forte? Sì. Sia forte marino che terrestre. Le nostre truppe stanno livellando. Buono. E facciamo anche Dispersed Industry. O la Produtt... No, sì, Dispersed Industry. Poi abbiamo i punti per fare la dottrina. Ok, per questo ci ne serve 90. No, aspettiamo per la dottrina. Facciamo la dottrina normale. Ok. Ok, ok, ok. Motorized Army. Oh sì, questo ci dà il bonus, però non ci serve. Small Arms Research. Intanto, Oman ci vuole dare un convoglio. Grazie. Uh, non abbiamo più la produzione di armi. Diamogliene uno. Come siamo messi ad armi? Ah, ah. Più o meno. I medium tank ne abbiamo un sacco. E non ce ne servono così tanti. Facciamo armi. Che sono più importanti, secondo me. Ok. Vediamo quante truppe hanno loro qua. Un sacco. Però riusciamo ad attaccarli? No, meglio di no. Meglio di no, non sprechiamo risorse. Anche perché ne abbiamo poche. Ok. Ma direi che ci tocca aspettare finché non... Oddio. Oddio, i russi stanno arrancando forte. Sono nelle loro mani. Perché se perdono i russi, perdiamo anche noi. Se perdono i russi, perdiamo anche noi. Anche la Bulgaria non è ancora entrata. Ottimo. Buono. Vogliono comprare i nostri convogli? Certo. Ed è finito il tempo per questo episodio. Allora. Stiamo un po' arrancando. Sia noi che l'Unione Sovietica. A noi ci mancano uno, due, tre, quattro città e siamo fuori. Forse è solo Tirana. Se mi prendono Tirana sono fuori. Però l'ho fortificata bene. L'ho fortificata per bene. E non mi fanno paura. Però ho paura che cada l'Unione Sovietica. Spero riescono a sbarcare gli alleati da qualche parte così da non farmi morire malamente. Ricerchiamo l'antiaerea. Qua cambiamo e mettiamo l'artigliere dal 40. La produzione ce l'abbiamo ancora perché abbiamo il centro di produzione Tirana che ha un sacco di fabbriche. Quindi quello ci regge. Anche qua abbiamo ancora le fabbriche perché questa è la capitale. Buono. Buono buono. Niente io direi che ci vediamo alla prossima puntata e bella.